E' in scena fino a domenica 18 al Teatro Bonci di Cesena, poi da giovedì 22 all'Arena del Sole di Bologna, La Serra, un testo comico satirico poco rappresentato di Harold Pinter. L'azione è ambientata in un istituto psichiatrico in cui i pazienti sono sottoposti a sinistre manipolazioni, ma Pinter questi pazienti non ce li mostra, ci mostra soltanto i dirigenti dell'istituto, una casta di burocrati impegnati in grottesche lotte di potere tra di loro, la regia di Marco Plini. Da venerdì 16 a domenica 18, nel centro di prima accoglienza di Napoli, l'ex dormitorio pubblico, Davide Iodice riprende il suo progetto, mettersi nei panni degli altri, vestire gli ignudi, uno spettacolo nato nell'ambito del Napoli Teatro Festival e ispirato alle sette opere di misericordia del Caravaggio. Alcuni ospiti del centro, affiancati da attori professionisti, rappresentano di fronte a una ventina di spettatori per volta le loro storie di vita vissuta. Infine, martedì 20, all'Elfo Puccini di Milano, debutta il nuovo spettacolo di Saverio la ruina, Polvere. Non si tratta stavolta di un monologo, ma di un dialogo sul tema della violenza degli uomini nei confronti delle donne. Una violenza che nasce all'interno della coppia, da prima sottile, poi via via sempre più pressante e pericolosa. Altre notizie e informazioni le trovate ovviamente nella versione scritta di questi consigli. Intanto, come sempre, buon teatro a tutti. Grazie. Grazie.